Ma sento come l'altro che è presente Lazzaro, quando l'è morto, l'è assoprì, arriva Gesù, che Gesù gli feva chi scarsa l'è un, l'arriva lè e l'ha detto Lazzaro! Un applauso al tecnico, ragazzi, a Gontacchi che ora va subito, oppure fa il cassè di sinerelli, allora che ha fatto? Lazzaro, alzati e cammina. E poi andiamo via, perché Gesù l'era assieme, erano poche parole. Lazzaro è venuto fuori dalla tomba, ha chiesto il suo cosigno che era venuto a cattare il cimitero e se ne cattò davanti e cosa ha fatto? Lazzaro, ma sapete che? Ha detto che stai stai stai, ha visto un miracolo. No, ma non è una storia vera, questa ragazza. Ma hai visto un miracolo in Finlandia? In tutta Barletta, Michiglia, Molfetta, Palermo, Drapani, che è così due? Oddio, l'ho un po' partigiano, oppure il Tamalfaradano, perché al nord non fa mai diventare. Beh, comunque, lei è un po' la madonna, perché è l'Urdes della madonna. Beh, anche su te, ragazzi, avete un lavoro spettacolare, perché è una specie di galleria che ogni tanto viene fuori a un casparire. Eh, miracolo, miracolo, ero cieco, adesso ci vedo. Eh, tutto applaudire. Dopo un po', eh. Miracolo, miracolo, ero molto, adesso parlo. Eh, dopo un po' vi foronco la carrucina. Miracolo, miracolo, ha con i gommi nuovi. Ma scherzo, scherzo, eh. Perché poi, poi, poi...